Una vita sola, sia in Occidente sia in Oriente, non spiega nulla. Al termine della condizione umana, invece, la molteplicità delle vite spiega tutto. Il libro contiene molte pillole spirituali commentate alla luce dell'insegnamento dei maestri immateriali che, attraverso grandi medium, parlano della reincarnazione. Quando ai maestri è stato chiesto «Ma voi, che esprimete una saggezza così grande, chi siete?», questi hanno risposto «Siamo una coscienza che vi comprende». Da qui è nato il termine «evolvenza». Quattordici, inviato speciale. Anche adesso, a sessant'anni, mangio pane e sete e faccio da santo e da ladro, pur di andare dove la notizia frigge e si infiamma. Per lei ho attraversato guerre e terremoti e ho percorso tanto mondo. Vi meravigliate? Allora perdonate se con pochi di voi ho qualcosa in comune. Io non ho mai concepito una vita fatta solo di giornate da aspettare. Mi ricordo nell'88, a Nuova Deli, dopo l'intervista, Indira Gandhi mi chiese «Lei da quanti anni fa l'inviato?» E io «Da un giorno solo, signora, perché ogni giorno imparo da capo». Commento La maggioranza della gente commenta le notizie, ma non le provoca. Allora, a che servono le notizie per tutte queste persone? A riflettere sulle notizie e farne motivo d'evoluzione.